Patch veloci 11.17 Per chi vuole entrare in ranked e ascoltarsi i bilanciamenti in Champions Select Le skin Crime City Nightmare escono il 26 alle 22 la sera Le skin Fenice usciranno il 2 settembre alle 22 la sera Da notare il client viene migliorato a livello di programmazione in questa patch Quindi fatemi sapere come vi trovate perché mandiamo un po' di feedback a Riot Facciamogli sentire che fa schifo o che funziona o un po' entrambe Ci sono i reworkini di Lucian, Gangplank, Amumu su questa patch Sono belli fighi, ci ho fatto dei video in merito, guardateli Rune modificate Il piede lesto ti cura un cifro e scala meglio Se lo usi sui minion è praticamente uguale Colpire i campioni con sta runa farà tiltare come non mai gli avversari 100% rende Ione sbroccato Item nerfati Divine Sandler 5D meno perché almeno la Trinity non sembra così merdosa con le stesse identiche stats Serpent's Fang Meno letalità perché Cristo santo quanto è rotto con le stat che ha adesso Witsand Col cazzo che i campioni a D possono avere un oggetto a resistenza magica forte Nerfano il danno on hit finché non sei livello 9 Almeno Akshan non ti one hita con una E la Witsand Item baffati Fallbreaker 100 HP in più perché siamo passati da tutti che dicono che è sbroccato E a tutti che dicono che fa schifo Nonostante sia semplicemente situazionale Yomu Ghostblade Finalmente si sono resi conto che è il peggior oggetto da assassini nel gioco E che la gente deve andare per gli item da bruiser per avere cooldown redaction E infatti cosa gli mettono? Cooldown redaction Wow che idea geniale Champ nerfati Akshan Maggiore scaling sulla D ma ridotto il danno base del rampino perché basta buildare Witsand ragazzi Buildate la D per favore vi scongiuro Graves Costo di mana della Q aumentato per evitare che bullizzi ogni singolo mid laner Irelia ridotto la cura della Q per evitare che con uno scettro vampirico diventi un dio immortale in lane Che ti farà semplicemente sanguinare da ogni singolo edificio persino agli occhi Che in blu ridotto il danno della passiva in modo da rendere meno frustrante la vita degli AD Carry Che non si trovano esplosi 100-0 da una combo dal muro senza avere alcun preavviso Beh bello Sempre sempre divertente Leona più fragile grazie al resistente ridotto la W Perché porco cane fottiti E vatti a slinguare Diana per un po' nel ripostiglio dei non giocati Sincero Basta Leona Viego nerfata tutto tondo perché Basta Incopentiva è così stupido Basta basta che palle Zed maggiore scaling sulla Q Minore scaling sulla E In pratica se sei fortino con gli shuriken Fai più danni il prima Se no diventi un minion Baffa i giocatori con le mani Nerf per i giocatori incapaci C'è imbaffati Ecco maggiore clear di giungla con la passiva baffata Perché bruciamo il meta e rimettiamolo forte per i mondiali Ah ah Evelynn Cooldown ridotto della Suprema Così che se prende il controllo della partita ti farà avvenire Un infarto Lissandra Più danno degli autoattacchi E minore costo di mana della Q Perché che cazzo Qualcuno fermi le blank se no perdiamo sto game Nami Letteralmente il buff che ho chiamato in streaming Minore costo di mana della W E 15 HP in più Vi prego Riot Fatemi bilanciare sto gioco Senna ribaffata nella sua forma da critico Con maggiore danno dai critici E più anime Da ogni minion Non mostro che Senna l'ha stitta Certo Grazie Riot Mi mancava Senna Con 600 range Livello 1 Che comincia a squartarmi la faccia come tiratore Ah ah XD Divertente Timo Più danno on hit Perché buon dio Sto ratto non serve a una sega Xaya Altri buff Perché i mondiali li vogliamo con tiratori divertenti e fortissimi La Suprema fa più danno e la Q è più veloce quando hai velocità d'attacco rendendola molto più fluida e smooth E questo è quanto per questa patch Good luck in esports raga Grazie a tutti